Benvenuti nella top 5 pistole leggendarie Jacobs. Ogni arma come al solito non sarà consacrata. Partiamo subito quindi dal quinto posto dove ho inserito, anche se non sapevo neanche fosse così forte prima, la Companion. La potrete tenere da il consacrato X2 e X3 all'incudine su Eden 6, con un 30% da ciascuno se giocate a modalità normale o con un 15% se giocate a Chaos 4 o superiore. Cosa fa questa pistola? Spara dei proiettili incendiari, cosa rara per una pistola Jacobs avere un elemento, ma che hanno solo uno 0% di possibilità di applicare un effetto di stato. È però possibile applicare questo effetto di stato quando farete un colpo critico con il 100% di possibilità. Quindi se fate colpo critico lo applicerete sicuramente garantito, però non ci sarà nessun rimbalzo dei proiettili verso altri nemici. Quindi cosa rende così forte questa pistola? L'alto danno base e il fatto che sia un'arma incendiaria e praticamente ogni nemico di Borderlands 3 è un nemico di carne. Al quarto posto ho inserito un'arma che se usata da Flak con Fade Away, allora è un'arma da primo posto. Ma con ogni altro personaggio è da quarto. Sto parlando della Kingskull o Queenskull, è la stessa arma con elementi diversi. La potete ottenere da Tarina Distruttrice alla breccia del distruttore su Pandora e con un 6% di drop rate. È un'arma odiosa da farmare, soprattutto se ne volete una di ogni elemento. Cosa fa? È una pistola Jacobs che di base ha Lifesteal, 12,5%, non so bene perché ma ce l'ha quindi va bene così. E quando fate colpo critico andrà a far rimbalzare 3 proiettili dentro il vostro caricatore e 3 proiettili a ricerca verso il nemico colpito. Ora, l'arma consuma 3 proiettili per sparo, quindi se continuate a fare colpo critico avrete munizioni infinite. Altrimenti in 3 colpi avrete finito il caricatore e dovrete ricaricare. È così forte la combo con l'abilità di invisibilità di Flak perché non solo garantisce i colpi critici ma ne aumenta anche il danno. E quindi continuare a colpire un nemico anche senza colpire colpo critico vuol dire continuare a fare una combo infinita di colpi critici potenziati che si triplicano ad ogni impatto. Carino. Al terzo posto ho inserito la pistola Trickshot che potrete ottenere dalla modalità Arms Race botte bottino dell'ILC5 sconfiggendo il capitano Harker o in una delle zone, nello specifico nel bunker. Cosa fa questa pistola? È una pistola che è completamente automatico quindi se tenete premuto il grilletto spara da solo, non dovete premere ogni volta come è di norma le pistole Jacobs. Se colpite un nemico dopo pochi istanti la pistola scaricherà il suo intero caricatore velocemente nell'istante, letteralmente in pochi istanti e poi andrà subito ovviamente in ricarica. Questo è un ottimo modo quindi di aumentare il DPS di quest'arma e i colpi critici vanno a rimbalzare verso i nemici vicini. Quindi se avete una buona mira e dei buoni riflessi, quest'arma è assolutamente perfetta perché vi premierà e vi permetterà di avere dei danni molto alti. L'unico lato negativo è il consumo di munizioni molto veloce, soprattutto se avete delle mod di classe o artefatti che vanno a aumentare la capacità del caricatore perché si scaricherà sempre alla stessa velocità. Al secondo posto troviamo la mia arma preferita su Flak, la pistola Maggie. La potrete ottenere sconfiggendo il secondino team a Floodmore Basin su Eden 6 con un 15% di possibilità, oppure sconfiggendo la strega del fervore nella modalità vera prova, alla prova del fervore ovviamente, con un 50% di possibilità. E cosa fa? Quest'arma è un'arma normalissima Jacobs che spara 6 colpi per ogni sparo, quindi 6 proiettili per ogni sparo e ogni proiettile che colpisce un nemico può rimbalzare verso altri nemici ovviamente con il colpo critico come tutte le Jacobs normalissime. Fine. È una pistola estremamente basica ma ha dagli alti danni e quindi estremamente prevedibile e forte. Molto soddisfacente utilizzarla, specie quando eliminate un nemico con un solo caricatore e assolutamente consigliata su praticamente ogni personaggio a parte Mose. Infine al primo posto troveremo la mia pistola preferita in assoluto di Borderlands 3 tra quelle Jacobs. Ovviamente la più forte e una delle meccaniche più strane e innovative che ci siano. La 7th Sense. La potrete ottenere nel DLC2 come ricompensa per aver completato tutte le missioni della serie Cold Case, quindi le missioni dove andrete ad aiutare quel detective smemorato. La potrete ottenere solo una volta e non è consacrabile purtroppo diciamo, non può avere consacrazioni ma è estremamente forte anche senza. Cosa fa quindi questa pistola? Ricordatevi solo la versione leggendaria perché c'è anche una versione epica che non ha questo effetto. Quando andrete a colpire il nemico farete apparire un proiettile che si muoverà verso l'alto come se fosse un'anima diciamo. E quando andrete a ricaricare andrà a dirigersi verso il nemico che avrete colpito facendo danno splash ghiacciato. Se fate colpo critico verranno spawnati due proiettili invece che uno che andranno poi a colpire quel nemico. Il danno è assolutamente enorme e inaspettato. Se riuscite a utilizzarlo con le visibilità di Flak è ancora più forte. L'unitorolato negativo rispetto alla King's Call ad esempio su Flak è che non rigenera munizioni se fate colpo critico. E quindi a prescindere finirete sempre il caricatore. Inoltre nonostante il proiettile sia effettivamente un laser quello che spara la vostra pistola. È relativamente lento ed è facile mancare i nemici perché è sottile sottile sottile. Rimane comunque un'arma assolutamente fantastica consigliata su praticamente ogni personaggio perché è molto molto forte. Detto ciò per questo video è tutto. Vi invito a cliccare qui per vedere la mia top 5 dei fucili d'assalto leggendari Vladov.